L'arresto di Totò Riina fu frutto di un compromesso vergognoso che certamente era noto ad alcuni ufficiali del ROS come Mori e De Donno. Fu frutto di un progetto tenuto nascosto a quegli esponenti delle istituzioni e quei magistrati che credevano invece nella fermezza dell'azione dello Stato contro Cosa Nostra. A ripercorrere l'arresto del padrino Totò Riina finito in manette dopo decenni di latitanze il 15 gennaio del 1993 è stato il pubblico ministero Teresi. Certo, secondo quanto prospetta l'ipotesi accusatoria, che Riina venne consegnato ai carabinieri dall'ala di Cosa Nostra vicina a Bernardo Provenzano. Riina, con cui i militari del ROS, imputati al processo, avevano intavolato un dialogo finalizzato a far cessare le stragi, era ritenuto un interlocutore troppo intransigente. Perciò gli sarebbe preferito Provenzano, fautore della linea della sommersione e lontano dall'idea del papello. L'ultimatum che Riina avrebbe presentato allo Stato tramite i carabinieri. La cattura del Bosco Leonese Riina, come snodo della seconda fase della trattativa tra parte delle istituzioni e la mafia, è al centro dell'udienza del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Provenzano, dunque, dopo le stragi del 92, sarebbe entrato in gioco e avrebbe consentito la cattura del compaesano con la complicità del ROS, pretendendo tra l'altro che il covo del capomafia venduto non fosse perquisito. Era chiaro che tutto questo doveva essere tenuto segreto, ha spiegato il PM Teresi, e dopo la cattura di Riina e l'uscita di scena anche di Ciancimino, le linee dell'accordo sono chiare e si passa ai fatti. Così come per i carabiniere fondamentale mantenere il segreto sulla cattura di Riina, ha giunto il magistrato, altrettanto è importante per la mafia che nulla tra peri sul fatto. La procura descrive uno Stato diviso in due, da una parte pezzi delle istituzioni pronti a trattare dopo gli attentati a Falcone e Borsellino per paura e incompetenza, dall'altra un manipolo di uomini come l'ex guardasigilli Claudio Martelli e l'ex capo del DAP Nicolo Amato, convinti che si dovesse mantenere la linea dura contro Cosa Nostra. I timori e l'incapacità di far fronte all'emergenza, dunque, avrebbero portato alcuni rappresentanti delle istituzioni a piegarsi, a ricatto nell'illusione che alcuni cedimenti, come ad esempio un'attenuazione all'odiato 41 bis, potesse far cessare le bombe mafiose.